Ho letto un po' di numeri per ricordare le cose che già abbiamo fatto nel 2019, le cose che abbiamo cominciato e che devono essere definite nel 2020 e le cose che dobbiamo cominciare e che se novo. Parliamo di dati oggettivi così non possiamo essere smentiti. Questo assessorato nel 2019 ha finanziato 1.289 imprese e ha speso quasi 150 milioni di euro e nel 2020 si impegna a finanziare non meno di 1.000 imprese. Sono dati che permettono di alimentare un'economia nuova, progetti nativi, un'economia virtuosa che crea posti di lavoro. Quali sono le cose strategiche che dobbiamo realizzare nel corso del prossimo anno? Dobbiamo continuare a finanziare le imprese artigiane come abbiamo fatto con la Crias, 3.425 imprese finanziate. Dobbiamo fare la legge del commercio. È una legge di riforma essenziale. Nel 1999 è stata fatta l'ultima legge. Quando si faceva questa legge nel mondo nasceva un colosso dell'e-commerce, Alibaba, e noi ancora andavamo dietro la carta bollata e la raccomandata con ricevuta del ritorno. Quindi la legge del commercio. Continuare a spendere fondi comunitari, fare partire distretti produttivi e continuare a finanziare le imprese artigiane. Io credo che su questo nel nuovo anno certamente raggiungeremo gli obiettivi. Non ultimo, tra le cose che abbiamo cominciato e che devono vedere la luce nel 2020, vi voglio parlare delle ZES, le zone economiche speciali. Il 2020 deve essere l'anno delle ZES perché se le ZES vengono riconosciute, le aree industriali siciliane avranno di nuovo vigore e avranno di nuovo una prospettiva di crescita.